Ciao, oggi presentiamo la nuova Internet Key 42.2, novità esclusiva di Vodafone, che permette di sfruttare la rete 43.2. Vodafone è il primo operatore in Italia a lanciare commercialmente questa rete. Andiamo a scoprire che cosa c'è nella scatola. Internet Key Guida rapida, con le istruzioni Il cavetto USB, che permette di collegare la Key direttamente al PC. L'Internet Key pesa meno di 40 grammi e ha sul retro uno slot per l'espansione della memoria. Ha una memoria interna di 128 MB, ma è espandibile fino a 32 GB. Andiamo a scoprire quanto è facile installarla. Basta inserire l'Internet Key nella porta USB, seguire le istruzioni. Ricordiamoci che la Vodafone Internet Key 42.2 è compatibile con i principali sistemi operativi, con Windows 7, Windows Vista, XP e Mac Leopard. Vi ricordo che la rete a 43.2 MB per secondo sarà disponibile nelle principali città italiane e vi permetterà di sfruttare la vostra Vodafone Internet Key 42.2 al meglio delle sue potenzialità. Alla prossima review, stay tuned!